benvenuti ben ritrovati sul mio canale signori e signore siamo qui oggi parliamo di un'altra classe del nostro carissimo black ops signori parliamo di un'altra build questa è un po' un po' così un po' apprezzata un po' non apprezzata a me onestamente non mi dispiace anche se preferisco sempre la cappino non mi dispiace parliamo sì di una città la milano allora ragazzi classe molto semplice ve la faccio vedere alla fine del gameplay vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un bel commentone se il video vi piace se non vi piace lasciare un bel like un pollicione in su supportatemi allora dai cazzo fatemi sapere qualunque cosa ne pensate vi lascio il link in descrizione dei vari social ragazzuoli e ci bicchiamo alla fine del video via ragazzi eliminate qualsiasi minaccia attacco al napalm in arrivo 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 Minaccia scongelata. Aereo di colpo spiaggia ostile in zona. Aereo spia ostile in solo sulla zona. E' bello entrare in queste lobby raga. Granata a frammentazione lanciata. Attenzione! 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 Ah beccalo Ed eccola Proprio lei La Milano Ragazzi la Milano E' fatta così E' fatta Volata Eliminatore Socom Canna Task Force da 10 a 6 Sotto canna Impugnatura Fidel Dungeon Caricatore Speed Loader Vandal Impugnatura Rivestimento Elastico E' proprio lei Signori Proprio lei Mamma mia Ragazzi come avete potuto notare La classe E' molto divertente Da usare Il gioco Oggi sta facendo Veramente bestemmiare Le classi Scusate Le partite Sono veramente Uno schifo Gente che Campera Gente che sta ferma Gente che Spawn Kill Gente che Notte for Shed Alli spawn Oggi Oggi è un casino Oggi è un casino Speriamo in meglio Di un altro giorno Comunque Comunque Vi ricordo Nuovamente Iscrivervi al canale E lasciare un bel pollice Fatemi sapere La vostra nei commenti E ci becchiamo Al prossimo video Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.